buongiorno a tutti sono marco manca un medico per formazione e presidente della fondazione simples olandese e sono qui con voi oggi per parlare di antropocene e distruzione delle value chain innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per questo bellissimo evento e per avermi reso possibile parteciparvi purtroppo esordirò con con una piccola giustificazione non sono potuto essere fisicamente tra voi nonostante i miei programmi perché come avrete saputo ieri i campi flegrei si sono agitati l'intera logistica nazionale sembra essere talmente ottimizzata da essere totalmente perturbata alla minima variazione e non è stato più possibile raggiungervi questo però è un fa parte in un certo senso del tema di cui vogliamo discutere oggi allora cercherò di essere breve perché so che una video lezione non è la stessa cosa di una lettura in presenza con la possibilità di interagire perché parliamo di antropocene innanzitutto probabilmente i più tra voi lo sanno già ma è il caso comunque di chiarire se l'antropocene viene fatto iniziare idealmente con il test nucleare trinity del luglio del 1945 è diventato intorno al 2016 completamente evidente che effettivamente l'uomo ha avviato una nuova era geologica per via della comparsa di rocce con inclusioni di plastica emerse dai vulcani alle hawaii dopo questa questo reperto rocce plasticose sono state reperite in diverse altre regioni del globo l'isola di drinidad notoriamente ha delle rocce con materiali plastici completamente integrati sul minerale roccioso sulla costa ed è ovviamente importante notare anche che si sono create queste celebri isole di plastica nei nostri oceani ma ne abbiamo una anche noi nel nostro martirreno che secondo uno studio dello smithsonian ospitano vita che si sta cercando di adattare a questa nuova struttura che abbiamo così generosamente offerto al pianeta e quindi è evidente che siamo in una nuova era del dello sviluppo della biosfera terrestre profondamente marcata dalle attività umane dalle attività antropiche ed ecco perché antropocene e probabilmente tutti noi sappiamo cos'è una valuceina almeno intuitivamente ma esistono ovviamente dei dialetti delle divergenze semantiche del caso di dire che cosa intendo io in questa lettura per vali una valuceina è costituita dalla sequenza delle azioni e degli oggetti dei valori essenzialmente che contribuiscono a generare un valore di interesse è una catena perché qui c'è un esempio molto semplice volendo acquistare qualcosa online quindi rendere come valore disponibile l'acquisibilità di un oggetto a distanza online quel che sarà necessario sembra banale sarà un sito web il quale a sua volta avrà bisogno di un server la sua volta avrà bisogno di sistemi di computazione data center e via andare sempre più in profondità sempre più lontani dall'utente a cui viene offerto il valore acquistare qualcosa quindi sempre meno visibili ma essenziali alla fruizione di quel valore quello che è importante e chiarirci fin d'ora sul fatto che le value chains così intese sono artefatti culturali cioè noi catturiamo esplicitamente una una value chain così come questa rappresenta il valore che noi percepiamo o che la nostra comunità percepisce e i valori che la nostra comunità o noi associamo alla produzione di questo di questo valore ultimo ciò significa che diverse culture diverse realizzazioni possono avere delle value chain diverse o per differenze legate alla definizione del valore fruibile o per differenze legate alla catena di valori che vengono mobilizzate per fornire quel quel valore fruibile di interesse questo è importante perché chiaramente le value chain essenzialmente esistono in una sorta di ecosistema co-opetitivo dove possono competere e cooperare alternativamente a volte contemporaneamente un po' come succede per i servizi ambientali in un ecosistema parlare delle value chain è lo strumento che io perlomeno preferisco per discutere di come è organizzata una società e di come funziona una società perché ci permette di andare ad analizzare non solo esplicitamente i valori in gioco e i valori che contano per quella società ma anche di andare a osservare quanto intricata è la struttura che rende disponibili questi valori che rende sostenibili o presumibilmente sostenibili questi valori e quindi di andare a fare dell'inferenza su quali siano i possibili impatti di mutazioni, variazioni nell'equilibrio generale della società noi perché siamo nell'antropocene? perché oggi siamo almeno in occidente una società basata sulla convenienza il web è pieno di queste piccole battute che però come ogni buon scherzo nascondono profonde verità qui ci viene presentato un supermercato che offre dei mandarini sbucciati, chiusi in una confezione di plastica e scherzosamente l'autore ci dice ah se solo la natura avesse scoperto un modo per coprire questi oggetti arancioni queste arance in realtà credo siano mandarini però è uguale senza che noi dovessimo intrappolarli in questo detrito di plastica e questo è estremamente evidente quando poi andiamo a considerare che per avere prodotti rapidamente fruibili a basso costo, facili da consumare al volo in una società in cui il tempo libero delle persone è sempre più considerato uno spreco dobbiamo essere costantemente attivi, affamati a contribuire alla crescita economica della nostra società una pera per esempio può essere raccolta in Argentina trasferita in Thailandia per essere affettata, sbucciata e messa sotto sciroppo impacchettata in plastica e rinviata negli Stati Uniti o in Europa per essere venduta e consumata agevolmente senza doversi sporcare le mani a pulire e tagliare una pera autentica questo è estremamente importante noi abbiamo costruito un intricato sistema di valori e value chains che li sostengono completamente ottimizzata per la produzione di plus valori di profitti e questo sfrutta il più possibile la ridondanza e le differenze di costo che esistono tra diverse società su scala globale ciò ci porta ad avere una economia in cui non è facile prevedere l'impatto di variazioni che potremmo a volte considerare chirurgiche un esempio che è stato sotto gli occhi di tutti è l'aggravamento della crisi energetica europea che è stato almeno parzialmente indotto dalla decisione di muovere un embargo su gas e olio alla Russia in occasione del conflitto in Ucraina che ha portato allo scatenarsi di effetti di secondo e terzo ordine sulle nostre value chains in Europa portando a un aumento dei prezzi sul mercato di diversi beni portando a un'instabilità delle linee di produzione e più o meno viviamo tutti in Europa quindi sappiamo cosa è successo questo è estremamente interessante se si pensa che da decenni da almeno due decenni sul tavolo dei presidenti della commissione europea erano presentati periodicamente dei dossier pubblici si possono andare a verificare in cui si analizzava la dipendenza dell'Europa dall'energia dei paesi confinanti e in particolare della Russia legittimo pensare che l'imposizione di un embargo su uno dei beni più importati potesse causare un danno economico al paese da cui lo si importava un pochino più naif se vogliamo non avere considerato una value chain globale non rendendosi conto che certo se la si importa qualcosa servirà pure per decidere di smettere di importare qualcosa ci si deve essere preparati ad esserne indipendenti e che comunque probabilmente quel qualcosa ha un valore sul mercato anche oggettivo e quel qualcosa potrà essere venduto a terzi se il mercato ha la capacità di assorbirlo che è più o meno quel che è successo la Russia ha continuato ad aumentare il proprio PIL a sorpresa per noi e noi invece siamo entrati in un periodo di crisi questo è un esempio banale se volete una decisione come la definivo chirurgica cioè è stata decisa a tavolino i tempi sono stati decisi da noi esseri umani la natura della misura è stata decisa da noi esseri umani e nonostante tutto gli impatti sulla value chain ci sono completamente sfuggiti di mano perché si è riflettuto solo sugli impatti di primo ordine lineari e per quel che riguarda l'antropocene esiste un gap gigantesco se da una parte possediamo report ricchissimi ormai da parte di tutte le grandi organizzazioni internazionali di tutti i grandi istituti di ricerca internazionali che ci raccontano della vastità e della minutezza di dettaglio dell'impatto che l'antropocene avrà sugli ecosistemi umani gli ecosistemi in cui noi viviamo quindi alcuni impatti diretti ad esempio l'impatto diretto dell'aumento della temperatura e dell'umidità sulla salute umana e alcuni impatti indiretti ad esempio come il cambiamento della fauna locale cito per esempio l'ingresso di zanzare non autoctone e dei loro parassiti possa avere a sua volta un impatto su di noi e questo si estende ben al di là della salute abbiamo notizia delle prime guerre dell'acqua che si sono svolte tra Cina e Vietnam ad esempio con la costruzione di grandi dighe e la presa di controllo dei fiumi principali in quella regione abbiamo notizie di spostamenti e tensioni simili in Africa nel nostro piccolo è esistita una polemica tra alcune regioni della pianura padana tra il Piemonte e l'Emilia Romagna a proposito della gestione dell'acqua del Po ad esempio e questo ha un impatto non solo sulla disponibilità di acqua per per scopi umani ma per scopi produttivi immaginate l'impatto che sta avendo in Olanda che stanno avendo in Olanda i centri di computing delle grandi cloud provider internazionali e se da una parte abbiamo questi report così dettagliati dall'altra quando andiamo a guardare le analisi delle grandi aziende di consulenze che poi sono le più prolifiche in questo senso su come adattarsi al cambiamento climatico e su come irrobustire le nostre value chain al cambiamento climatico scopriamo un pensiero estremamente naive monodimensionale in cui la supply chain scivola in in background quasi scompare e si pensa solo in termini di linearità non si parla di come addirittura i valori stessi a cui la società tende possono mutare per via dell'antropocene e pensiamo ad esempio alla sensibilità aumentata dei ragazzi per la sostenibilità dei viaggi degli spostamenti e l'impatto che potrebbe avere nell'arco di pochi anni su industrie come quella dell'aviazione o su industrie come quella dei trasporti di massa su terra su ruote e questo è estremamente importante anche per decisioni legate ad esempio al al computing alle telecomunicazioni cosa succederebbe se ci ritrovassimo ad avere difficoltà ad approvvigionare i nostri impianti di raffreddamento nei centri di computing moltissima retorica sulla sostenibilità oggi si basa sulla digitalizzazione ma anche la digitalizzazione va pensata va pensata nel contesto di una società che si deve ripensare nel nel mutare il il proprio ecosistema questo è un elefante nella stanza che dobbiamo trovarci ad affrontare ben presto non ho il tempo oggi e non voglio annoiarvi nella registrazione per entrare nel dettaglio di come usare esattamente la costruzione delle valucei nella loro analisi per analizzare questi problemi però vi invito a leggere del materiale bellissimo che è stato messo online con grande generosità sotto licenze creative commons quindi disponibile a tutti ridistribuibile traducibile sfruttabile per qualsiasi scopo dall'ottimo Simon Wardley il quale tra l'altro ha affinato lo strumento non solo costruisce una value chain ma aggiunge una dimensione a quella che vi descrivevo della visibilità della percepibilità da parte dell'utente finale che è quella della maturità dell'elemento o dell'incertezza che è associata al valore contribuente che permette di costruire delle vere e proprie mappe su cui si può seguire lo sviluppo delle strategie e dei cambiamenti in questo ambiente competitivo come avevamo detto prima e allora cerco di tenerla breve vi ringrazio tutti quanti per l'attenzione spero di non avervi annoiato e vi invito a rimanere in contatto anche perché vorrei lanciare l'idea che visto tutto il grande lavoro di comunità che gli organizzatori hanno contribuito a coinvolgerci a fare per per i Green Blue Days sarebbe bello anche se la scadenza è a breve in due mesi pensare di proporre una una rete di dottorato dedicata al tema della sostenibilità e dell'adattamento al cambiamento climatico all'antropocene all'Europa vi ringrazio e a presto a presto a presto a presto